Giorno 669. Le notizie più importanti di oggi arrivano da sud. Dopo che le forze ukraine hanno avuto successo nella loro imboscata aerea contro i cacciabombardieri russi e diversi blogger militari hanno confermato la morte dei loro compagni, c'era una palpabile suspense in attesa di una reazione del Ministero della Difesa russo. Ieri la tanto attesa reazione è arrivata sotto forma di un rapporto che tuttavia invece di confermare le perdite dei tre velivoli a sud, dichiarava che fossero stati abbattuti quattro jet ucraini nella stessa zona. I soldati ucraini che operano a Krynki riportano che non è stata sganciata una singola bomba sulle posizioni sin dall'intercettazione dei velivoli russi, cosa confermata indirettamente dalle fonti russe che non hanno pubblicato nuovi video di bombardamenti, il che evidenzia come il Ministero della Difesa russo stia cercando di nascondere la situazione. In più, alcune delle più prominenti fonti russe hanno riportato che gli ucraini hanno ricevuto uno squadrone di F-16 e hanno sparso i velivoli nei vari aeroporti nell'ovest ucraino. Cosa non improbabile in quanto l'Istituto per lo studio della guerra ha fatto notare che secondo i documenti del Ministero della Difesa estone, l'Olanda, la Danimarca, la Norvegia e il Belgio avevano intenzione di mandare i jet prima della fine dell'anno. Questo ha portato a ulteriori ipotesi sull'imboscata e l'improvviso silenzio da parte dell'aviazione russa. La mancanza di bombardamenti ha alleviato la pressione sulla testa di Ponte Ucraina nella riva est del fiume e permesso agli ucraini di aumentare il ritmo dell'offensiva. Negli ultimi giorni le forze russe hanno condotto una serie di grossi attacchi, quindi una pausa è stata la benvenuta. L'attacco principale era diretto verso la parte centrale del villaggio, dove i russi hanno cercato di dividere le forze ucraine per poterle poi attaccare da diversi lati. Un combattente ucraino ha riportato che l'attacco di supporto è stato respinto, ma i russi al centro hanno continuato a spingere e stabilito alcune posizioni. Gli scontri non si sono fermati e gli ucraini hanno provato a evitare che i russi espandessero il punto d'appoggio. Secondo un marino ucraino sono poi riusciti a isolare il gruppo russo e costringerli a nascondersi nelle case che sono state poi livellate dall'artiglieria. Sembra che i russi abbiano mandato una squadra di salvataggio composta da due corazzati e venti soldati per distrarre gli ucraini e dare il tempo ai russi di fuggire dalla trappola. Ma non solo era troppo tardi, anche l'unità di salvataggio è stata eliminata. I combattimenti si sono fermati nel momento in cui i jet russi sono stati abbattuti, permettendo agli ucraini di riconsolidare il controllo sulla parte centrale dell'insediamento. Gli operatori dronici ucraini hanno riportato che i russi hanno provato a condurre un'operazione di ricognizione notturna nella foresta. Recentemente le forze ucraine hanno potenziato i sistemi di guerra elettronica e secondo Madiar hanno intercettato 35 droni russi, cosa che sembra aver fatto esaurire le scorte alle unità russe che siano state quindi costrette a sostituirli con ricognitori a piedi, che hanno sfortunatamente per loro finito per essere bersagliati dai droni ucraini. Ma l'obiettivo principale degli operatori dronici ucraini è quello di distruggere quanto più equipaggiamento russo possibile. Il comandante del distaccamento, Madiar Sberz, ha pubblicato un video che mostra 15 pezzi di equipaggiamento distrutti negli ultimi due giorni. Un terzo di questi erano corazzati, un altro terzo camion e rimanente veicoli vari. Gli ucraini stanno identificando le strade, specie le intersezioni usate maggiormente dai russi e poi le minano usando i droni durante la notte. Durante il giorno finiscono i veicoli che sono rimasti immobilizzati e questa si è rivelata una tattica molto efficace. Anche i distaccamenti dronici delle brigate di fanti di marina sono molto attive. Ha mostrato la distruzione di carri russi che hanno provato a raggiungere punti di fuoco per minare le difese ucraine, l'intercettazione di rinforzi diretti nel lato nord-ovest di Krinki e diversi sganci di granate sulla fanteria russa. I Marines della 35esima brigata hanno di recente pubblicato il video della distruzione di una casa che ospitava diversi soldati russi. E' bastato un missile Aymars per far collassare l'intero edificio. Nel frattempo gli equipaggi degli Aymars pubblicavano video festivi in stile natalizio. E' al momento in corso un sostanziale sconto sulla collezione delle bandiere doppie. Un acquisto ideale per mostrare solidarietà alla situazione ucraina e supportare il nostro lavoro. Se siete interessati il link si trova in descrizione. Come al solito, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.